ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video relativo al formato geopackage in questo terzo tutorial andremo a vedere come in geopackage creare degli stili e memorizzarli all'interno del formato per prima cosa andremo a caricare il geopackage con due tipologie di dati quindi andiamo in geopackage area verde aggiungiamo un elemento puntuale alberi e un elemento poligonale area boschiva ok a questo punto io voglio all'interno di geopackage inserire uno stile che mi rimanga nel formato in maniera fissa per cui prima cosa ne andrò a fare una categorizzazione ad esempio dell'avia boschiva quindi andiamo sale boschiva abbiamo un categorizzato per zona una cosa semplice andiamo mettere anche un etichetta ok facciamo così eccolo qua questa categorizzazione questo stile andiamo a salvarlo all'interno geopackage quindi basta andare su il nostro layer andiamo in proprietà stile salva stile e andrò a metterlo ovviamente non come file qml ma esattamente come database nel sorgente dati questo qua diamo ad esempio non so codice quindi una categorizzazione che abbiamo fatto per codice ok stile salvato vedete che è salvato nel geopackage adesso andremo a fare un'altra categorizzazione per poi successivamente salvarla sempre con un altro stile quindi adesso andiamo a fare una categorizzazione graduata scegliamo il valore area ok facciamo anche qui una cosa molto semplice così bene andiamo sempre sul nostro layer proprietà stile salva stile sempre database sorgente dati qua daremo un numero non so stile stile o meglio ancora graduato area ok qua posso utilizzare questo come layer dei stili predefinito facciamo una prova per far capire che se io metto adesso usa per questo layer stile predefinito ok stile salvato ok bene e facciamo anche per gli alberi facciamo uno stile quindi facciamo anche qui una categorizzazione questo caso abbiamo tipo to tipologia ecco una cosa così e mettiamo qua la etichetta col tipo di piante sempre tasto destro proprietà stile salva stile sorgente dati e qua mettiamo ok 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 bene se adesso non dobbiamo caricare da zero il nostro geopackage al confronto alla differenza diciamo con lo shapefile che come ben sapete quando io carico un shapefile lui carica il layer in maniera casuale per quanto riguarda il colore del contorno del riempimento qui abbiamo già associato degli stili al nostro geopackage infatti se noi andiamo a caricare il geopackage andiamo a caricare solo alberi e boschiva area boschiva eccolo qua quindi vedete che alberi ha mantenuto l'unico stile che avevamo fatto alberi e boschiva e quando abbiamo inserito lui ha mantenuto come categorizzazione quella che abbiamo dato predefinita ovviamente il bello è che io all'interno del nostro geopackage avendo nel caso dell'alberi e boschiva due stili quindi se io vado su alberi e boschiva proprietà stile in questo caso faccio carica stile qui vedete che ho ad esempio lui capisce che per l'area boschiva quindi per questo layer ho due tipologie di stile mentre per l'albero ho su altri stili database quindi se io vado su codice e lo carico ok vedete che passo su quell'altra tipologia di stile che avevo caricato nel stesso caso se alberi ad esempio per qualche motivo voglio fare una categorizzazione singola e togliere le etichette ecco così vedete io posso in qualsiasi momento andare sempre su layer alberi proprietà stile carica stile lo stile collegato a questo layer è solo questo tipo albero lo carico e torno ad avere la definizione precedente per cui in questa maniera capite bene che mentre se io lavorassi con lo shapefile anche nel dare alla terza persona il mio file dovrei dare per quanto riguarda lo stile dovrei dare altri formati quindi il file ad esempio quale r o dovrei dare il file quello qui salva stile il file qml quindi altri file distinti da associare lo shapefile con il geopackage il vantaggio enorme è proprio il fatto che io do un file con dentro già le categorizzazioni varie e soprattutto varie possibilità di stili da poter associare bene spero che il video sia stato di vostro gradimento e come solito vi aspetto al prossimo che in questo caso sarà il quarto video relativo alla guida completa sul geopackage ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti